Luca Cappel Revisore del 5 Stelle Grazie. Sono tornata. Nuovamente la mia disciplina, una storia, una storia di una scoperta. Ecco, proprio in questa storia si capisce come l'astronomia può dare nuovi dati a comprendere meglio i monumenti nell'antichità. Siamo ad Atene, 1937, e mentre il mondo si sta preparando allo scoppio della seconda guerra mondiale, un archeologo americano, William Bell Dismore, siede sugli scalini del Partenone nell'acropoli di Atene, meditando tra sé e sé, quando all'improvviso dei passi dietro di lui un'ombra provenire proprio dall'oscurità nel Tempio della Dea. Si gira, è un suo studente. Dear professor, lo saluta, ma cosa ci fa lei qui oggi? Domani è un giorno molto importante per lei. Dismore al principio non comprese, ma poi preso da un impeto, un'emozione fortissima, corse giù dall'acropoli per prendere quei pochi strumenti di cui aveva bisogno, una bussola, una macchina fotografica, un filo a piombo. Non molto diverso da quello che usiamo noi oggi, però insomma un po' la tecnologia ha fatto dei passi avanti. Dopo un'ora era già di ritorno sull'acropoli, ricordando ciò a cui lo studente aveva fatto riferimento poco prima. Una nota, una postilla in un articolo scritta da lui stesso nell'American Journal of Archeology, in cui si diceva che quel giorno, proprio in quel momento, qualcuno doveva essere lì a osservare il sole dal partenone e quello gli avrebbe dato, svelato, la data di fondazione del Tempio. Ecco che in un attimo, mentre stava ancora pensando il buio, si dirama e il sole proprio all'orizzonte fa capolino, le luci dell'alba penetrano le otto colonne proprio nel mezzo e illumina il peristilio all'interno della cella, proprio lì dove si doveva trovare un Tempio, la statua della Dea Atena, statua d'oro ed avorio. Chiudete gli occhi anche voi per un momento, lasciatevi accecare dalla luce dell'alba, del sole dell'antica Grecia. E' lì che Dismore capì che aveva ragione, quello era il giorno del compleanno della Dea, era il 23 di agosto. Fece le sue misurazioni, veloci calcoli a mente e capì che proprio come il vostro compleanno, ritorna ogni anno lo stesso giorno. Così nel compleanno della Dea Atene, Atena il sole era tornato per penetrare nel suo Tempio e illuminare la sua statua. Era riuscito a isolare poche date dalla stratigrafia archeologica, ma solo una coincideva con il dato astronomico e quell'anno era il 488 avanti Cristo. Grazie.